E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto io sono Emiliano e anche oggi andiamo insieme a fare il nostro update di analisi tecnica legata ai mercati finanziari legata in particolare ai mercati delle criptovalute andremo a capire bene nel dettaglio quello che è successo ieri a mente fredda cercheremo di analizzare i dati oggettivi e quindi cercare un pochino di mettere ordine a questa situazione vi ringrazio in prima battuta veramente per ieri perché avete apprezzato davvero tanto il video Time Sensitive che vi ho fatto è l'essenza di questo canale ok quindi riuscire ad arrivare a voi in tempo e quindi appunto vi ringrazio comunque per il supporto perché a me fa veramente un sacco piacere e mi dà appunto la forza di potervi portare con continuità questi contenuti quindi grazie davvero tanto partiamo non voglio allungarmi troppo perché voglio andare anche oggi dritto al punto allora voglio analizzare con voi il dato delle total liquidations cosa significa? Significa tutte le liquidazioni che sono avvenute sugli exchange centralizzati in questo caso nelle ultime 24 ore dopo questo crash di mercato abbiamo avuto 894 milioni di dollari liquidati è un dato importante non è il dato più elevato in realtà perché se andiamo a vedere qui lo storico troviamo un total liquidation di 1.58 billions ok il 4 dicembre altra giornata dove ci ricordiamo questo shake molto importante questo dump importante che abbiamo avuto sui prezzi quindi in realtà parliamo di una situazione che non è bassa ma è quasi la metà ok quasi un po' un po' meno un po' di più della metà rispetto a quello che si era verificato appunto in data 4 dicembre cosa possiamo dire rispetto a questo dato che sicuramente abbiamo avuto un refresh anche un po' di quello che è il mercato abbiamo spazzato via molte leve abbiamo spazzato via molte posizioni chiaramente la maggior parte delle liquidazioni in realtà è arrivata sulle principali coin interessante appunto vedere come effettivamente molte di queste liquidazioni siano arrivate da ethereum 59.70 milioni di dollari mentre su bitcoin è 20.88 milioni di dollari interessante appunto perché ci fa capire come effettivamente c'era una forte leva su ethereum e questa è stata spazzata via quindi le liquidazioni sono state più importanti su ethereum dato interessante da analizzare in realtà quello che sta accadendo sul prezzo di bitcoin è un po' quello che ci eravamo detti ieri cioè ieri ci eravamo lasciati dicendo ok ci troviamo qui ok circa su questa zona questa zona qua può fare da supporto perché è una trendline che ci siamo portati avanti da davvero tanto tempo e che ci ha fatto da resistenza qui 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 e poi l'abbiamo utilizzata come supporto in questa situazione qua in realtà non l'abbiamo tenuta e abbiamo accelerato ok come immaginavamo abbiamo accelerato nella zona dei 42 ve l'ho twittato ieri quindi seguitemi anche su twitter perché aggiungo anche lì arrivo molto velocemente lì abbiamo raggiunto i 42 42 che poi sono andati a essere ricomprati abbastanza velocemente ci siamo riportati in zona 43 44 ma poi non abbiamo avuto nessuna continuazione di volumi bullish anzi abbiamo continuato a essere molto molto scariche quindi stiamo continuando a cadere cosa possiamo evidenziare da questa situazione sicuramente i volumi che sono anomali rispetto ai volumi delle ore precedenti perché sono volumi molto molto importanti sono i volumi che ci hanno spinto a ribasso chiaro che anche il mercato globale non ci ha aiutato nelle ultime ore quindi è stato è stata un po' una sessione negativa e gli è in tassi di interesse però non voglio tanto entrare nel dettaglio di quello voglio concentrarmi poi effettivamente su quella che è l'action del nostro settore e di bitcoin non veniamo sicuramente da un momento molto positivo per quanto riguarda la price action perché chiaramente abbiamo denotato a livello daily si nota meglio quello che è una situazione di debolezza che ci portiamo avanti da novembre vedete come il trend sia continuamente ribassista con dei high su più più bassi dei precedenti e dei low più bassi dei precedenti quindi tendenzialmente non abbiamo invertito ancora nulla ci avevamo provato qui ad avere spazio per invertire ma abbiamo messo un low più basso di questo quindi qua comunque stiamo continuando il nostro downtrend voglio però arrivare dritto al punto su bitcoin e arrivare a farvi capire quello che sta accadendo a livello mensile perché sapete che lo zoom out è importante e va considerato in altrettanto modo noi ci troviamo secondo me di fronte a una situazione molto particolare che sicuramente approfondirò nel tempo con voi quindi non si fermerà qui a questo video perché comunque c'è ancora tanto tempo è quella del mese di gennaio guardate questa media mobile questa media mobile è la 12 ema mensile media mobile che abbiamo mantenuto dall'inizio del bull market del 2020 fondamentalmente fino ad oggi ok anche nonostante abbiamo avuto dei crash dei dump abbiamo comunque mantenuto le chiusure ben al di sopra o al di sopra di questa media mobile dove ci troviamo oggi ci troviamo al di sotto di questa media mobile questa media arriva sui 43.8 e sarà importante per il mese di gennaio chiuderci almeno al di sopra come è successo qui non è importante non ci interessa che oggi ci troviamo tanto al di sotto perché vedete anche qui siamo trovati ampiamente al di sotto ma poi sulle chiusure mensili siamo andati a recuperarle per ben tre volte una due e tre per chiuderci sopra quindi quello secondo me sarà un segnale importante una chiusura al di sotto di quella di questa media mobile potrebbe inclinare ok quella che è la struttura di macro di lungo periodo su quello che è bitcoin quindi potremmo andare ad avere uno scenario cioppi che non è quello che sarebbe molto bello da vedere per il resto di almeno del q1 e forse q2 ok sta andando abbastanza in là ma almeno il q1 potrebbe essere molto cioppi se la perdiamo potremmo continuare a fare questa cosa qui anche ok per tempo per arrivare fino all'estate quindi è uno scenario non bello sicuramente non ottimale però potrebbe essere uno scenario da valutare qualora la media mobile appunto a 12 mesi e ma chiudesse negativamente quindi la candela mensile di questo mese chiudesse al di sotto di questa media mobile è ancora prematuro? Sì perché ci troviamo al 6 di gennaio oggi appena iniziato quindi è ancora presto andare a fare analisi su questa cosa qua però dobbiamo tenerlo in considerazione soprattutto se facciamo zoom out e facciamo macro analisi per quanto riguarda la dominance invece a livello mensile non mi interessa troppo mi interessa a livello daily ci troviamo sul 40% nonostante un dump molto forte continua a essere veramente scarica la dominance perché non abbiamo una reazione importante sì ok abbiamo recuperato il 40% dopo esserci trovato a 39-37 ma niente di importante niente di continuativo e questo chiaramente porta la dominance ad avere una valenza diversa rispetto probabilmente a quello che eravamo abituati a vedere anche nei mesi passati dove di fronte a situazioni così di mercato avremmo avuto uno spike di dominance importante questa testimonianza appunto di quello che ripeto da parecchio tempo sul fatto che la dominance non è più o meglio è un indicatore importante ma che non sta reagendo così proporzionale ai dump di bitcoin e questo è secondo me un po' a favore comunque del mercato generale è importante però osservare la total perché la total perde la 200 ok ieri e ci trova faccia a faccia con un supporto importantissimo quello dei 2 trillions 2 trillions che sono importanti per il proseguimento anche qua del bull market perché è un po' lo spartiacque di quello che sarà bull e bear market a mio parere o comunque sia di un movimento sideways che non potrà portare chissà che linfa però è ancora presto ragazzi perché il mese appena partito bisogna capire questi dati vanno presi a livello settimanale e mensile non daily o orario ok soprattutto se parliamo di bull o bear market però appunto è importante analizzare tutte le situazioni e poter poi fare le nostre conclusioni detto questo io mi fermo perché le altcoin non ha senso osservarle oggi perché è una giornata che avete capito molto bene chi comanda il mercato penso che ieri abbiamo avuto un ulteriore conferma di tutto questo e quindi detto questo se vi ha fatto piacere questo contenuto vi invito a lasciare un bel mi piace di iscrivervi al canale con clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati e noi ci vediamo presto con un altro update ciao a tutti ragazzi